Rotari, il re Longobardo che fece scrivere le leggi. Rotari, dicesettesimo re dei Longobardi, è ricordato soprattutto per l'editto che porta il suo nome, promulgato nel 643. Questo documento è la prima raccolta scritta delle leggi Longobarde, e rappresenta un'importante pietra migliare nella storia del diritto italiano. Rotari nacque intorno al 606 da Gilulfo, re dei Longobardi dal 590 al 616. Alla morte del padre, Rotari fu educato alla corte di re Arioaldo, e nel 636 fu nominato duca di Friuli. Nel 636, alla morte di Arioaldo, Rotari fu elettore dei Longobardi. Durante il suo regno, Rotari si dedicò a consolidare il potere monarchico e a rafforzare l'unità del regno. Per questo motivo, decise di raccogliere per iscritto le leggi Longobarde, che fino a quel momento erano state tramandate oralmente. L'editto di Rotari è composto da 388 capitoli, che trattano di una vasta gamma di argomenti, tra cui il diritto penale, civile, processuale e religioso. Il documento è scritto in latino, e si basa su un sistema di pene pecuniarie, chiamate inguidrigildo, che variano a seconda della gravità del reato e della condizione sociale della vittima. L'editto di Rotari ebbe un'importante influenza sul diritto italiano. In particolare, il sistema dei guidrigildo fu adottato anche dal diritto romano, e influenzò lo sviluppo del diritto penale europeo. L'editto di Rotari è un documento fondamentale per la storia del diritto italiano, e rappresenta un importante esempio di legislazione medievale. Rotari, grazie a questo documento, è considerato uno dei più grandi legislatori del Medioevo. L'editto di Rotari e la faida Uno dei cambiamenti più importanti introdotti dall'editto di Rotari fu l'abolizione della faida. La faida era un sistema di vendetta privata che consentiva a un individuo o a un gruppo di persone di vendicarsi di un torto subito. La faida poteva portare a cicli di violenza che potevano durare per anni, e rappresentava una grave minaccia per l'ordine pubblico. L'editto di Rotari sostituì la faida con il guidrigildo, un risarcimento pecuniario che la vittima poteva richiedere al colpevole. Il guidrigildo era determinato in base alla gravità del reato e alla condizione sociale della vittima. L'abolizione della faida fu un importante passo avanti nel processo di civilizzazione dei Longobardi. Il guidrigildo, invece, rappresentava un sistema più moderno e razionale di giustizia, che consentiva di risolvere i conflitti in modo pacifico. L'editto di Rotari e il diritto romano L'editto di Rotari fu influenzato da diverse fonti, tra cui il diritto longobardo consuetudinario, il diritto romano, e il diritto cristiano. Il diritto longobardo consuetudinario era il sistema giuridico tradizionale dei Longobardi, e si basava su norme tramandate oralmente. Il diritto romano era il sistema giuridico dell'impero romano, e si basava su leggi codificate. Il diritto cristiano era il sistema giuridico della Chiesa cattolica, e si basava sui principi della religione cristiana. L'editto di Rotari mostra l'influenza di tutte queste fonti. In particolare, il documento si basa sul diritto romano per quanto riguarda il sistema di pene pecuniarie, e sul diritto cristiano per quanto riguarda i reati contro la religione. L'editto di Rotari ebbe un'importante influenza sul diritto romano. In particolare, il sistema dei Guidri Gildo fu adottato anche dal diritto romano, e influenzò lo sviluppo del diritto penale europeo. Conclusione L'editto di Rotari è un documento fondamentale per la storia del diritto italiano. Il documento rappresenta un importante esempio di legislazione medievale, e ha avuto un'influenza significativa sullo sviluppo del diritto romano e del diritto europeo. Rotari, grazie a questo documento, è considerato uno dei più grandi legislatori del Medioevo. Grazie a tutti.